Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento dell'informazione di TV6. In apertura, in occasione della presentazione del libro, io sono Giorgia, la leader di Fratelli d'Italia. Oggi pomeriggio a Pescara ha parlato dei fondi destinati al PNRR e del ruolo che avrà il suo partito alle prossime elezioni amministrative di ottobre. Vediamo. Dall'UE arrivano pochi fondi, arrivano in tempi troppo lunghi, arrivano comunque sempre con delle condizionalità che sono, dal mio punto di vista, troppo elevate. Arrivano con anche un tema legato alle cosiddette risorse proprie, con le quali l'Unione Europea dovrebbe garantire questi soldi che rischiano di essere prese dalle stesse aziende che quelle risorse dovrebbero salvare. Quindi voglio dire, io non sono ottimista come i cosiddetti europeisti, anche se mi considero una europeista anch'io, semplicemente credo in un'Europa diversa. Qualche passo in avanti è stato fatto, ma sicuramente siamo molto indietro rispetto all'idea che noi abbiamo di un'Europa che sia finalmente un gigante politico e un nano burocratico. Oggi siamo di fronte a un gigante burocratico, che anche per questo le risorse non arrivano, e a un nano politico. Guardi, nelle prossime elezioni di Abruzzo stiamo lavorando per individuare chiaramente in tutte le città che vanno al voto candidati competitivi. Lavoriamo per vincere. Mi pare che i risultati anche della giunta Marsilio e quindi di Fratelli d'Italia siano risultati parecchio incoraggianti. Io sono estremamente fiera del lavoro del governatore Marsilio, della sua serietà, di vedere un governatore che mantiene gli impegni presi, che su questa regione piuttosto che spendere le risorse per comprare consenso, come spesso piace fare alle forze politiche, decide di investire su progetti di medio-lungo termine che però possono liberare questa regione dal suo storico isolamento, per cui tutto il tema delle infrastrutture. Sono fiera di un governatore che si è rifiutato di fare tutti i giorni le dirette Facebook durante la pandemia, neanche se fosse dei fenomeni televisivi perché stava lavorando e quindi mi riconosco nel suo modello e del resto lo conosco molto bene perché anche mi conosceva qualche anno e per cui sono molto fiera. Penso che questo i cittadini abruzzesi che andranno al voto nelle prossime amministrative lo riconosceranno, al centro-destra e a Fratelli d'Italia. Ed ora il consueto aggiornamento del bollettino Covid. Sono 50 di età compresa tra gli 8 e 89 anni, nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 4.392 tra tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. Il tasso di positività è pari all'1,3%. Dopo diverse settimane si registra una nuova vittima che fa salire il conto totale dei decessi a 2.513 dall'inizio dell'emergenza, mentre i nuovi guariti sono 54. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 928. 24 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, uno invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre gli altri 903 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Due passeggeri su 30 sono risultati positivi al Covid-19. Si erano sottoposti a tampone ieri mattina all'aeroporto d'Abruzzo appena sbarcati dal volo Londra-Pescara. Si tratta di due giovani, tutti i viaggiatori a bordo del velivolo dovranno comunque sottoporsi a quarantena obbligatoria di 5 giorni, così come previsto dalle disposizioni nazionali. Si tratta del secondo collegamento in cui i passeggeri vengono sottoposti a tampone una volta in aeroporto, in base a quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che impone il test molecolare a chi arriva da Gran Betragna, Spagna e Malta. Il primo volo interessato dell'attività di screening è stato il Malta-Pescara atterrato martedì pomeriggio. Ieri i risultati dei tamponi, 9 giovani sono risultati positivi e tutti i 70 passeggeri sono stati sottoposti a isolamento fiduciario di 14 giorni. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Oggi a Pescara è stato presentato l'adeguamento tecnico dell'elettrodotto che trasporta l'energia elettrica dei campi eolici di Edison. Del progetto finanziato da Terna usufruiranno molti comuni abruzzesi. Giuseppe Dintino. L'elettrodotto Villa Santa Maria a Roccavivara sarà modernato. L'infrastruttura trasporterà l'energia dai campi eolici di Edison, rifornendo una gran parte dei comuni interni abruzzesi. I dettagli del progetto devono ancora essere definiti. Forse l'opera potrà rientrare in quelle per la transizione ecologica previste nel PNRR. Ma ad ogni modo l'adeguamento tecnico non ricadrà sulle casse abruzzesi. Sarà finanziato da Terna, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica. L'energia rinnovabile in Abruzzo è talmente tanta che il problema è rappresentato dal trasporto. Da qui la progettazione di questo intervento, come spiega l'assessore regionale all'ambiente Campitelli. Esatto, proprio per questo è un'infrastruttura che poi ha una finalità di pubblica utilità perché riguarda tutta la provincia di Chieti, gran parte della provincia dell'Aquila. Quindi interesserà più che la metà dei cittadini abruzzesi. Oggi noi abbiamo un problema, che ci sono diversi produttori di energia verde e produttori di energia rinnovabile che poi non riescono a immettere in rete l'energia che producono. Quindi un intervento del genere serve proprio per aumentare le prestazioni da parte dell'energia green, quindi poter mettere più energia verde all'interno di una rete già esistente. Una rete che provoca oggi disagi, microinterruzioni, quindi disagi per i cittadini, che in futuro sarà quindi una rete migliorata dal punto di vista prestazionale, dell'efficienza, dell'efficacia e che non produce più in microinterruzioni disagi ai nostri cittadini. E ci aiuta anche a poter raggiungere in modo graduale quell'obiettivo importante sulla transizione energetica. Tutti ne parliamo, però poi bisogna calare a terra i progetti con atti concreti per raggiungere quegli obiettivi importanti anche sulla neutralità climatica. Ci tengo a sottolineare che gli interventi saranno sulla infrastruttura esistente, non ci saranno nuovi percorsi, nuovi elettrodotti, è quello esistente che andrà migliorato. Entra in funzione da oggi il nuovo depuratore di Alba Adriatica che sostituirà quello già esistente. Paolo Renzetti Dopo il depuratore di Tortoreto, la Ruzzo Reti ha inaugurato questa mattina il secondo impianto di ultima generazione nella zona artigianale Cassa Santa di Alba Adriatica. L'impianto ha una capacità depurativa di oltre 90.000 abitanti equivalenti e servirà il territorio di Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica, Corropoli e parte di Tortoreto. L'impianto di depurazione, ultimato dopo quattro anni di lavori, è costato quasi 10 milioni di euro, di cui 9, di fondi regionali. Il depuratore di Alba è dotato di tre linee di trattamento, acquerefue, affanghi attivi e di ben sette vasche, come quello di Tortoreto. Anche questo impianto di depurazione è altamente tecnologico e si caratterizza per una maggiore efficienza energetica. Il piano di investimenti, programmato dalla governance della Ruzzoreti, prevede ulteriori interventi cofinanziati dalla Regione Abruzzo, dall'Ersi e dalla stessa società acquedottistica Teramana. Ci sono stati quattro anni intensi di lavoro, una sinergia tra la Regione Abruzzo e la Ruzzoreti e oggi viene riconsegnata un'opera strategica per il nostro territorio, strategica sicuramente a livello di sostenibilità ambientale, strategica per la sicurezza delle nostre acque perché chiaramente un impianto di depurazione consentirà di consolidare nel tempo quel risultato che comunque il Comune di Alba Adriatica ha già raggiunto dell'eccellenza delle acque in tutti i punti di balneazione. Un applauso alla Presidente Cognitti, all'ingegner Sirpe, alla Regione Tutte ed è sicuramente un grande risultato anche per la politica che quando lavora in sinergia riesce a dare risposte ad un territorio che sicuramente lo merita. È un momento importantissimo per tutta la provincia, il secondo depuratore che inauguriamo nel giro di sei mesi, un investimento da 10 milioni di euro che porterà sicuramente benefici altissimi alla salubrità delle nostre coste. Un depuratore che servirà a diverse zone qui della Valla Vibrata e che risolve diversi problemi che c'erano stati in passato? Purtroppo sì, in passato questo tratto di costa si è caratterizzato per una serie di problematiche e questo depuratore è assolutamente innovativo, tecnologicamente avanzato, ma soprattutto di dimensioni veramente enormi. Serve cinque comuni, tra cui Martinsicuro, Alba Adriatica e parte di Tortoreto, sarà la soluzione definitiva e confermerà ulteriormente le bandiere blu che stiamo ottenendo negli ultimi due anni. E' stato promosso uno studio di fattibilità per la realizzazione di un terzo svincolo autostradale dell'A14 per Vasto, una infrastruttura che può dare impulso all'economia dell'intero comprensorio. Andrea Costantini. Dopo quelli di nord e sud, Vasto potrebbe avere un terzo svincolo autostradale, Vasto Centro, sull'A14. Uno studio di fattibilità in tal senso è stato avviato. L'annuncio ieri nel corso di un incontro, svolto proprio a Palazzo di Città, dove il sindaco Francesco Menna ha ricevuto il sottosegretario alla Presidenza con delega alle infrastrutture, Umberto D'Annuntis, l'assessore regionale Nicola Campitelli, i tecnici di ANAS, Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. In un territorio che ha bisogno di investimenti importanti, si è detto nel tavolo di confronto, il nuovo casello rappresenta una opportunità per tutto il comprensorio. L'infrastruttura è stata inserita già nel piano strategico degli investimenti regionali con priorità 1. Il territorio vastese, fanno sapere gli amministratori regionali, che produce una percentuale importante del pila abruzzese, merita una forte attenzione dopo anni di abbandono. Un incontro importante è voluto fortemente dal Presidente Massiglio durante i tavoli avuti con il Ministero e con Autostrade per l'Italia. Oggi siamo qui insieme a loro, insieme anche ad ANAS, per verificare la fattibilità di un terzo casello a vasto. Questo perché? Perché riteniamo che possa essere molto importante, oltre che per lo sviluppo turistico del territorio, anche per migliorare la viabilità e per eliminare i pericoli che logicamente abbiamo lungo la Statale 16, soprattutto in questo periodo, per l'attraversamento di mezzi pesanti e anche di altri veicoli normali. Sul vasto c'è stata una forte attenzione da parte della Regione Abruzzo, infatti abbiamo reperito risorse, le ultime 12 milioni di euro, a cui si aggiungono gli 8 milioni inseriti nella programmazione ZES da parte del Ministro Garfagna. Quindi riteniamo che il Porto di Vasto possa avere un ulteriore sviluppo, un ulteriore momento di potenzialità, perché è attraverso i porti che passa lo sviluppo futuro della nostra Regione. Iniziato il conto alla rovescia per le amministrative, Roseto scende in campo azione con Mario Nunez, appoggiato dall'ex parlamentare Giulio Sottanelli. Vediamo. È iniziato il conto alla rovescia in Abruzzo per le elezioni amministrative. Tra i centri più importanti dove si andrà alle urne nella nostra Regione c'è sicuramente Roseto, dove sarà sfida aperta per il dopo di Girolamo. Non scenderà direttamente in campo Giulio Sottanelli, che appoggerà Mario Nunez all'insegna del civismo e oltre i partiti tradizionali. Sono un paio d'anni che stiamo lavorando su un progetto politico che abbiamo chiamato Spazio Civico, quindi volendo coinvolgere tutte le energie presenti nella comunità di Roseto degli Abruzzi all'interno di un progetto ben definito, sarei dire un piano industriale di rilancio della città di Roseto. All'interno di questo progetto civico c'è anche azione, e quindi che è il partito di calenda, e quindi da due anni che stiamo lavorando l'abbiamo affinato come progetto, abbiamo diverse liste che sostengono la candidatura molto probabilmente di Mario Nunez, ancora se non viene ufficializzata. Molte persone avrebbero gradita la mia discesa in campo come candidato sindaco, oggettivamente e quotidianamente ricevo tante sollecitazioni sia da tanti cittadini, da portatori di interessi, ma anche da altri partiti, quindi da altri dirigenti politici. Questo mi rende molto orgoglioso, però penso che le ambizioni personali, seppur legittime, debbano fare sempre un passo indietro rispetto a un progetto che vada esclusivamente il bene comune. Il vero civismo siamo noi, perché il candidato sindaco non ha mai avuto Mario Nunez, non ha mai avuto nessuna tessera politica. Tutti gli altri partiti sono tutte persone che non hanno militato in partiti. Infine il giudizio sulla giunta uscente, se non una bocciatura, sicuramente, secondo Sottanelli, tante le cose da rivedere. Una gestione molto ordinaria, troppo ordinaria, nulla di nuovo, non ci sono stati progetti particolari, non si sono riusciti a completare altri progetti, penso ad esempio alla villa comunale, non si è fatto nulla sull'urbanistica, quindi un'amministrazione seduta in se stessa. Visita ispettiva all'ennesima del vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, presso l'ospedale San Massimo di Penne. Sotto la lente di ingrandimento, la mancanza di primari e le carenze strutturali, in cui versa il nostro comio vestino, intanto per il 29 luglio, è prevista una nuova manifestazione cittadina. Vediamo. Utilizzano questo ospedale come se fosse una pattumiera, dove dire quando non ce la facciamo più gli altri ospedali stanno scoppiando buttiamo qualcosa su Penne e no. Usa parole forti il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, in visita ispettiva questa mattina presso l'ospedale San Massimo di Penne riguardo ai tanti utenti che dal pronto soccorso di Pescara sono stati dirottati nei nosocomi di Penne e Popoli. Questa è l'ennesima visita dell'esponente politico pentastellato che denuncia inoltre forti carenze di personale all'interno del presidio ospedaliero con un quadro reso ancora più complicato dai tuorni di ferie. Qui serve subito di nominare i primari, non abbiamo ancora un primario ufficiale del reparto di medicina che è il più importante. Devono nominare il responsabile della UOS di gastroenterologia, c'è un ascensore che non funziona, ci sono reparti che addirittura adesso con le ferie del personale, una carenza cronica di personale, stanno chiudendo, stanno chiudendo delle ospita, le allucinanti, importantissime, quindi qui non si riesce a garantire più tutti quei servizi che si garantino alla volta. Bisogna fare presto, io chiedo immediatamente l'approvazione del nuovo piano sanitario con la riclassificazione di Penne in ospedale di base e sede di pronto soccorso. Fino a quando non viene approvato questo vuol dire che si sta lasciando allo sbaraglio. Purtroppo tutta la comunità vestina complessa all'ospedale di Penne. Intanto, dopo la denuncia alla Procura della Repubblica da parte del Comitato Salviamo l'ospedale di Penne sulla inadeguata assistenza notturna presso il reparto di medicina, il 29 luglio alle ore 17 è previsto un incontro pubblico organizzato dallo stesso Comitato e dal Movimento Lotta Sanità Vestina per chiedere al Sindaco e al Consiglio Comunale di discutere sullo stato dell'ospedale San Massimo. L'invito è rivolto a tutte le autorità provinciali e regionali a partire dalla dottoressa Veri che dovrà una volta per tutte venire a Penne e a dire quali sono le sorti del nostro ospedale visto che ogni giorno assistiamo a tagli e a morti per l'autombulanza che arriva a distanza di qualche ora. Quindi è ora che si dica la verità sulla sorte dell'ospedale di Penne una volta per tutte. Porta ad un risparmio di almeno 300 mila euro l'accordo transattivo tra Comune di Avezzano e Consorzio IRIM in attesa dell'ok definitivo del Consiglio Comunale e la fine del contenzioso fa da preludio al completamento dei lavori della nuova sede del municipio. Vediamo. Ok all'accordo transattivo tra il Comune di Avezzano e il Consorzio IRIM una vicenda questa diventata col passare degli anni legale e oramai passata attraverso la cruna del lago del compromesso economico della transazione che riguarda la struttura del nuovo municipio di Avezzano nella zona nord che ancora adesso resta inutilizzata. L'ambizione collettiva però è quella di farla tornare presto ad essere un patrimonio utilizzato dai cittadini. L'assessore del Comune di Avezzano Lorenzo De Cesare a fine marzo scorso sul volere del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio decise di seguire personalmente la trattativa con i soggetti dell'IRIM. Il lodo arbitrale emesso che imponeva un esborso dalle tasche del Comune di circa 2 milioni di euro adesso si è trasformato ragionevolmente in una stretta di mano del valore di 1 milione e 624 mila euro compresi gli interessi. L'accordo ha già ricevuto l'ok dall'Aggiunta Comunale ora la chiusura della controversia con IRIM dovrà ricevere il semaforo verde anche dal Consiglio. così abbiamo un risparmio di poco più di 300 mila euro con questa transazione in caso in cui l'IVA non fosse dovuta il risparmio è quasi 500 mila euro ma non è soltanto il dato del risparmio che per carità è un aspetto importante a mio avviso l'altra cosa rilevante è che finalmente si mette la parola fine a una vicenda che dura da anni forse ormai troppi direi e l'amministrazione potrà con serenità portare a compimento i lavori di un'opera così importante e così grande come quella del nuovo municipio. Mille sculture fatte completamente di spazzatura e la mostra Trash People dell'artista tedesco Hans Schult allestita a Pescara per sensibilizzare sulla salvaguardia dell'ambiente. Vediamo. È molto contento di essere qui a Pescara che gli mancava come città ha lavorato per 25 anni quindi è molto contento adesso di aver portato le sue opere anche qui. Un esercito di immondizia in vaso Pescara sono mille le figure antropomorfe ricordano quelle del mausoleo dell'imperatore cinese Xi'an ma anziché di terracotta queste statue sono fatte di rifiuti plastiche lattine pezzi di metallo gettati via ma che ora acquistano nuova vita con l'obiettivo di sensibilizzare riguardo la salvaguardia dell'ambiente. Noi produciamo tanta imbondizia quindi è molto importante il fatto di saperla riciclare perché altrimenti diventiamo noi stessi garbage in bondizia quindi molto importante. L'installazione dal titolo Trash People ad opera dell'artista tedesco Ash Hutz rimarrà in piazza della rinascita a Pescara fino a domenica nella ricerca anche dei materiali da dove vengono. La mostra dopo aver attraversato molte città Roma e Matera in Italia approda anche nel capoluogo adriatico per iniziativa del comune di ambiente SPA di fondazione Pescara Abruzzo e della camera di commercio un'occasione per riflettere su tutti quei piccoli gesti quotidiani che possono proteggere o danneggiare il mondo in cui viviamo. Tutti noi artisti viviamo anche in questo mondo quindi dobbiamo essere molto attenti e far sì che tutto possa essere riciclato allo stesso tempo perché viviamo noi stessi nel riciclo di questi materiali. E' stato presentato ieri sera il nuovo cartellone degli eventi estivi del comune di Spoltore diverse le attività tra le quali cinque percorsi turistici da poter effettuare con l'aiuto della nuova app City Around Vediamo Piazza Dal Benzio è stata la location per presentare Spoltore Riparte dedicata alle strategie per il turismo un appuntamento per conoscere i nuovi strumenti turistici della città e le attività delle associazioni cinque percorsi turistici itinerari pensati per gruppi organizzati con il personale delle associazioni a far da guida questo è il calendario 6 agosto con Italia Nostra 29 agosto con il tour delle moto d'epoca 24, 25 e 26 settembre durante il raduno dei camperisti il 17 ottobre in occasione di Giro Borghi il 28 novembre per la mattinata Fai visitare Spoltore da questa estate sarà più facile grazie anche all'app City Around la nuova applicazione tecnologica progettata per diventare il navigatore ufficiale della città attraverso questa sono già disponibili due tour uno dedicato al centro storico l'altro alle bellezze dei cinque borghi vogliamo essere beneauguranti di una ripresa post pandemica riaccendere i riflettori sulla nostra città sulle tante iniziative che abbiamo messo in campo abbiamo programmato in questi mesi di chiusura e che quindi da agosto partiranno per promuovere la nostra città le sue bellezze queste sono diciamo iniziative che insieme ad altri strumenti tecnologici di promozione del turismo asfoltore metteremo in campo perché c'è bisogno veramente un grandissimo bisogno di riacquistare fiducia e speranza di lavorare sodo per creare un circolo virtuoso per i nostri operatori della recettività per gli operatori turistici ma anche per i cittadini che hanno bisogno di vedere attivismo da parte dell'amministrazione delle amministrazioni e proprio un ruolo proattivo finalizzato a creare sviluppo è stato un anno molto difficile per tutte le associazioni perché chiaramente un po' per i fondi un po' perché era difficile muoversi e collaborare e strutturare qualcosa insieme abbiamo cercato di fare il meglio e il meglio l'abbiamo fatto anche meglio di quello che ci aspettavamo perché siamo riusciti ad aprire un infopoint e a strutturare delle visite guidate aprire più in là anche un circolo privato quindi in qualche modo abbiamo movimentato il borgo e spoltore paese con tutti gli altri bordi abbiamo tutti voglia di ripartire però non dobbiamo sottovalutare quello che c'è purtroppo tuttora in corso anche se va scemando ma non dobbiamo mantenere che è sempre alta la guardia siamo allo sport scatta il ritiro di Palena per il Pescara stamani la squadra ha raggiunto il comune del Sangro Aventino e nel tardo pomeriggio sta sostenendo il primo allenamento come vedete nelle immagini non convocati i giocatori in uscita ma Sciangelo al Benevento e Crecco che ha appena raggiunto l'accordo con il Vicenza prestito con opzione per il riscatto non c'è Scognamiglio che nelle prossime ore incontrerà l'Avellino con cui cercherà l'intesa per il trasferimento non convocato Celli mentre in lista Davide Zappella che arriverà dall'Empoli e deve essere ancora annunciato così come Pompetti tra gli assenti invece c'è anche Diambo ecco i 26 convocati portieri Fiorillo, Radelli e Sorrentino difensori Drudi, Sorensen Zappella, Elizalde Nzita, Longobardi e Veroli centrocampisti Busellato Memuscei Valdifiori Mercado Madonna D'Aloia e Pompetti attaccante Galano De Marchi Borrelli Bunino Bocic Di Grazia Chiarella Belloni e Vlanuta con la scadenza del termine fissato dal presidente Iachini nei prossimi giorni si attendono le decisioni del massimo dirigente sul direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione che nasce in salita per il ritardo accumulato vediamo la giornata odierna era quella fissata dal presidente del teramo Franco Iachini come deadline per procedere autonomamente nell'organizzazione della nuova stagione sportiva qualora non si fosse concretizzato alcun movimento societario allargamento della base o cessione della maggioranza delle quote anche se i colloqui proseguono la situazione non è mutata e allora arriva il momento di porre le basi per la stagione seppur con notevole ritardo la sessione estiva di calciomercato si è aperta due settimane fa tra una decina di giorni scatterà anche il ritiro e al momento il teramo non ha un direttore generale non ha un direttore sportivo non ha un allenatore ha 15 giocatori sotto contratto che aspettano di capire obiettivi e aspettative per il prossimo anno per la figura di direttore sportivo pur non potendosi escludere colpi di scena Sandro Federico resta in pole position anche perché con così poco tempo a disposizione è un dirigente che conosce già bene proprietà e giocatori sotto contratto e non ha bisogno di ambientarsi sarebbe la scelta più logica ma resta da capire se questa è anche la reale volontà del massimo dirigente Terramano sul fronte allenatore nelle ultime ore inizia a decollare l'ipotesi interna che porta a due profili uno è quello del responsabile del settore giovanile Cetteo Di Mascio che ha già guidato la prima squadra dopo l'esonero di Tedino da metà febbraio 2020 fino alla sospensione per la pandemia e poi nel playoff di Catanzaro confermato subito dopo alla guida della prima squadra ha poi incassato il dietro front della società con l'avvento in panchina di Massimo Paci l'altro profilo assolutamente inedito è quello di Marco Stella allenatore della Berretti Biancorossa stretto collaboratore di Di Mascio nonché suo vice al momento della promozione in prima squadra per Stella che ha sempre allenato squadre giovanili o dilettantistiche sarebbe un debutto assoluto dopo aver preso l'abilitazione nel gennaio 2020 perde quota l'ipotesi Federico Guidi attuale tecnico della casertana a cui è legato fino a giugno 2023 la squadra campana va verso l'esclusione dal campionato di C Guidi può liberarsi ma ad attenderlo c'è Limolese che ha appena cambiato proprietà passata all'imprenditore battipagliese Antonio De Sarlo che porta con sé l'ex DS della casertana Agnello Martone e probabilmente Guidi come tecnico nelle prossime ore dunque si attendono sviluppi sulle figure tecniche apicali poi le attenzioni si sposteranno sull'organico il notaresco 2018 annuncia la conferma nel ruolo di direttore sportivo di Paolo D'Ercole e nel ruolo di allenatore della prima squadra di Massimo Epifani per il direttore sportivo la stagione 2021-2022 sarà la terza consecutiva nella compagine rosso-blu annata nelle quali il bravo dirigente ha fatto intravedere tutta la sua competenza e professionalità lavorando a stretto contatto con la società per il tecnico pescarese sarà la sesta annata sportiva alla corte del presidente Salvatore Di Giovanni dopo le quattro splendide stagioni vissute dal 2013 al 2017 con il San Nicolo e quella passata la prima come tecnico del San Nicolo notaresco culminata con il secondo posto in campionato la finale playoff e il passaggio del primo turno eliminatorio nella Coppa Italia nazionale vincendo a Catania e perdendo al secondo turno successivo solo ai rigori in casa del Pescara siamo contenti che due figure così importanti e valide come Paolo D'Ercole e Massimo Epifani possano ancora essere con noi le parole del presidente Rossoblu Salvatore Di Giovanni l'obiettivo resta sempre quello di far bene e possibilmente migliorarci e questa era la nostra ultima notizia tutti i servizi che avete visto li troverete disponibili sul canale social youtube e al sito www.tv6.it grazie per averci scelto grazie per averci scelto